Salve a tutti gente e benvenuti in questo nuovo video e bentornati nella mia home gym come ha letto dal titolo oggi andremo a vedere un allenamento bomba per la schiera questo video è stato scelto da voi direttamente su instagram quindi se ancora non sei iscritto al canale ti invito a iscritti al canale e di seguirmi su instagram allora il primo esercizio si tratta di una latua shin con presa larga andremo a fare 15 ripetizioni con 6 secondi di negativa in risalita dopo queste 15 ripetizioni alziamo il cario e andremo a fare 4 barra 6 colpi appeso massimo diciamo dopo di che passeremo alle sbarra per fare le trazioni con presa stretta e i muscoli coinvolti saranno il gran dorsale il piccolo e il medio rotondo adesso partiamo con il primo esercizio e poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, come avete visto, che non vi ho detto, quando passiamo alle frazioni è a cedimento. Quindi, se viene via i 6 colpi, ne fate 6, se viene via le 2, ne fate 2. L'importante è che portate il muscolo a cedimento. Allora, un accorgimento da fare e una cosa da sapere. Quando andrete a svolgere il movimento, mi raccomando, cercate di stendere completamente le braccia per avere una maggiore contrazione muscolare e allungamento muscolare della vostra schiena. Ora, purtroppo, io qua non riesco ad allungare completamente il movimento dovuto dallo spazio, ma se andrete in palestra avrete sicuramente una rack machine da poter riprovare questo allegamento. Ma vi assicuro che è una bomba. Allora, passiamo al secondo esercizio. Secondo esercizio, o meglio, secondo 3 set, sarà svolto con un bilanciere per fare il nostro rematore, 12 ripetizioni. Poi prenderemo il manubrio e andremo a fare 8 ripetizioni con 2 secondi di isometria e 5 secondi di negativa in fase di discesa. Poi passeremo alla barra per fare le trazioni. In questo caso le faremo a presa larga, non a presa stretta, come avete visto precedentemente. Adesso vi mostro le esecuzioni. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Allora, passeremo alla barra per fare il nostro amore. Bene, visti questi due super tri-set, vi devo dire quante serie fare che mi ero dimenticato. Andrete a fare 8 serie con la lat-machine come vi ho fatto vedere con tutte le esecuzioni e 8 serie con per il rematore, con il bilanciere, malubri e barra di trazione. Se ancora non sei iscritto al mio canale, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella perché nuova settimana vedrete un nuovo tipo di allenamento. Quindi condividetelo con tutti i vostri amici, sui vostri social liberamente, anzi mi date anche una mano a me per crescere come canale. Vi lascio il mio Instagram qui sotto così da potermi seguire anche lì che tutti i giorni pubblico sempre tantissime cose. Niente, che dire, ci vediamo settimana nuova con un nuovo video. Ricordatevi sempre, no pay, no gain!